Questa settimana a Focus Europa La risposta di Mosca alle espulsioni dei diplomatici dall'Occidente Iniziativa dei cittadini europei, le proposte diventano realtà Alvia il concorso di narrativa breve a Inus Loci Non si è fatta attendere la risposta di Mosca alle espulsioni di diplomatici russi messenato da Stati Uniti, Unione Europea, Canada, Australia è nato a causa del presunto avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal nel Regno Unito Il Cremlino ha infatti annunciato l'espulsione di 150 diplomatici occidentali e la chiusura della sede del Consolato statunitense a San Pietroburgo Una risposta perfettamente simmetrica alla mossa dell'Occidente definita da Mosca come un'azione assolutamente inaccettabile scaturita dal pretesto del cosiddetto caso Skripal Questo fa parte quasi delle ritualità delle guerre diplomatiche dei contrasti diplomatici però lo scoppio di questa guerra delle spie sembra poter avere altri significati sembra poter segnare la fine delle speranze di una luna di miele che non c'è stata o di un miglioramento dei rapporti tra Russia e Stati Uniti che sembrava cosa fatta con l'arrivo alla Casa Bianca del Presidente Trump Si chiama Iniziativa dei Cittadini Europei ed è un mezzo prezioso per partecipare al processo legislativo dell'Unione Finora, secondo i dati in possesso della Commissione UE 9 milioni di cittadini l'hanno utilizzato e 4 iniziative di successo hanno superato la soglia del milione di firme In virtù di questo, Bruxelles si è impegnata ora a dare un seguito a queste richieste Si tratta di iniziative per fermare la vivisezione o garantire la qualità dell'acqua fino alle restrizioni sull'uso di pesticidi Insomma, uno strumento importante che negli ultimi anni ha fatto registrare anche un notevole aumento delle proposte Finora le iniziative, appunto, questo particolare strumento ha avuto 4 riscontri positivi e la Commissione si è impegnata a portarne avanti 3 Questo cosa significa? Che anche i cittadini, in particolare di 8 Stati membri che continuano questo numero di firme possono sollecitare una bella iniziativa di partecipazione diretta diciamo in un periodo in cui pensiamo a alcuni movimenti in campo in questo momento in Italia anzi, il principale movimento che ha vinto le elezioni politiche in Italia considerano i modi di partecipazione di democrazia diretta uno degli aspetti innovativi delle loro politiche Per celebrare l'anno europeo del patrimonio culturale la rappresentanza in Italia della Commissione Europea promuove il concorso nazionale di narrativa Animus Loci ovvero un itinerario culturale attraverso una serie di luoghi italiani con forte valenza europea Chiavari, Trieste, Ventotene, Norcia, Bologna, Napoli e Palermo saranno le piazze protagoniste per gli studenti che si cimenteranno i racconti di lunghezza non superiore alle 4 cartelle che dovranno pervenire entro il 30 aprile Un concorso appunto di scrittura creativa elaborazioni molto brevi appunto di 3-4 pagine che è stato lanciato in occasione dell'anno europeo per il patrimonio culturale il 2018 che celebriamo appunto quest'anno in tutta Italia ma in tutta Europa naturalmente e l'idea è di collegare questo concorso alla nostra iniziativa Animus Loci che è appunto un itinerario ideale attraverso luoghi italiani simbolici nel senso che hanno una forte valenza europea giusto per dare qualche esempio la Ventotene, Culla appunto del manifesto europeo di Spinelli Bologna, Alma Mater, l'università più antica d'Europa Trieste, Crocevia delle letterature mittele europee Napoli, San Carlo, uno dei teatri più antichi d'Europa e quindi attraverso queste tappe sono sette, non le ho citate tutte i giovani saranno invitati a scrivere dei racconti che appunto abbiano un collegamento con queste tappe del nostro itinerario Animus Loci a step in the right direction a day a da a a a Grazie a tutti